Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato ieri i centri ospedalieri di Biceglie, Barletta e Canosa. Gli ospedali della BAT infatti sono al centro di importanti processi di rinnovamento nell'ambito del piano di riordino sanitario della Regione. Il resoconto di Angela Zicolella. Gli ospedali della BAT al centro di importanti processi di rinnovamento nell'ambito di un piano di riordino sanitario della Regione che ha visto il presidente Emiliano in visita nei centri ospedalieri di Biceglie, Barletta e Canosa. Inaugurato a Biceglie il nuovo reparto di geriatria, sottoposto ad un provvedimento di rimodulazione dei posti letto. Continua il potenziamento dell'ospedale di Biceglie che riceve oggi un'importante struttura che è indispensabile per ospedali di questo tipo, quindi mi riferisco alla geriatria, quindi una cosa che avevamo deciso di fare in passato che stiamo mantenendo. Emiliano si è espresso nuovamente anche sul provvedimento emanato dal Ministero della Salute relativo al pericolo scongiurato di una chiusura del reparto nascite proprio del Policlinico di Biceglie. Non è detto che il numero dei parti deve essere così decisivo, ci sono anche altri ragionamenti che vanno fatti e in questo caso pur non avendo pienamente il target previsto dalle leggi, noi pensiamo che questo punto nascita debba rimanere, soprattutto per una ragione, siccome qui c'è la rianimazione, in tutta sincerità chiudere un punto nascita dove c'è la rianimazione che è un'enorme sicurezza per la partoriente, era una follia e quindi noi abbiamo fatto tutto, ma comunque è una cosa che stiamo riepilogando solo per la storia perché è una questione ormai morte e sepolta quella della richiesta del Ministero di sopprimere il punto nascita. Il punto nascita di Biceglie c'è e nessuno lo tocca. Il processo di rinnovamento ha interessato anche l'ospedale di Miccoli di Barletta. Qui il Presidente Emiliano ha visitato dapprima il pronto soccorso, dove è stato realizzato un importante nucleo di assistenza avanzato con ben otto posti letto ed una velocizzazione dei tempi di attesa e di visita dei pazienti. In seguito, l'unità operativa di gastroenterologia, spostata da Trania a Barletta. Durante la sua visita, Emiliano si è fermato ad ascoltare e rispondere alle domande dei pazienti in merito ai disagi che ogni giorno sono costretti ad affrontare all'interno del sistema sanitario. Un rinnovamento quindi necessario ed obbligatorio, come lo stesso Presidente ha dichiarato, nonostante le numerose difficoltà per i dipendenti pubblici e le polemiche che ne sono seguite. Io lo so che è complicato ogni volta spiegare questi meccanismi, ma se una cosa è complicata non è che io la posso far diventare semplice solo per evitare le polemiche. È chiaro che abbiamo trasferito un sacco di infermieri e un sacco di medici. Molti medici stavano sotto casa e adesso non ci stanno più e quindi un po' di disagi ci sono. A me dispiace per questi disagi che stiamo provocando al personale, però devo anche ringraziare tutti quelli che invece si stanno dando da fare e per collaborare si sottopongono anche degli sforzi ulteriori. Voglio anche ringraziare tutti i sindaci che ci stanno dando una mano perché fare il sindaco non è una cosa semplice. Quando ti toccano un reparto dell'ospedale e vengono a protestare, la cosa più facile di tutti è prendere la protesta e buttarla in faccia al Presidente della Regione, fregandosene di tutto e di tutti. E invece i sindaci della Puglia non si comportano così, affrontano le situazioni, controllano che noi quando prendiamo degli impegni come nel caso di oggi li manteniamo e però sono consapevoli che la razionalizzazione della sanità pugliese non si può fare lasciando ospedali vecchi e inutili e anche pericolosi così come erano 30 anni fa. Questa cosa non ce la possiamo permettere e non è consentita dalle leggi perché tutto questo non è che improvvisamente mi sono svegliato e ho deciso di fare il piano di riordino ospedaliero, mi hanno obbligato a farlo.